Stai a Ghero, la presentazione è oggi il primo giorno qui a Capcomì. Come ci sei arrivata e le prime sensazioni? Non vi nascondo che sono molto emozionata, sensazioni molto belle, accoglienze stupende. Sono arrivata perché mi hanno contattato e quindi mi ha fatto grandissimo piacere. Prima perché è vicino, più vicino possibile a Carpi, visto che è da poco che ho paltorito, per me è molto importante la vicinanza. E poi anche perché ho visto che ho una squadra molto giovane, dove ci sono giugatrici giovani che hanno voglia di lavorare, io anche ho voglia di lavorare, ho tanta voglia di farmi vedere, visto che sono stata praticamente un anno ferma, di farmi vedere e così la gente può vedere il campo. Rimettersi in gioco non è facile, perché è molto importante per la tua vita. Però la pallavolo aveva bisogno di sguardo di te, o tu avevi bisogno della pallavolo? Diciamo che io avevo bisogno della pallavolo. È stata un'esperienza bella ma amara l'anno scorso. L'ultimo anno. Sì, però devo dire che comunque la vita continua. Io ho voglia ancora di giugare pallavolo perché è la mia passione. Niente, farò vedere ancora chi è tagliavole. Però ti senti di promettere qualcosa, al di là di quello che hai detto finora, di questa squadra? Diciamo che non dico niente per Scaramanzia. Diciamo che io ce la metterò tutta per essere in forma per quando loro hanno bisogno di me.